La sconvolgente scomparsa di Celeste Palmieri, la donna uccisa per mano del marito suicida, ha rammaricato e intristito i familiari, oltre che la comunità sanseverese, per non essere riusciti a fermare una tragedia annunciata e per la quale Celeste ancora prima ha fatto di tutto per salvarsi, ma non c'è riuscita. I funerali della donna hanno affollato la parrocchia immacolata di San Severo, un manifesto con le foto della 56enne del suo papà scomparso, affissa l'ingresso della chiesa. Il mio destino è di stare accanto a te, si legge in un messaggio della 56enne rivolto a suo padre. Con te vicino più paura non avrò, arrivo papà. La Santa Messa in sua memoria, celebrata dal vescovo Giuseppe Mengoli, l'entrata della salma in chiesa, ornata da una corona di fiori, occhi pieni di lacrime che hanno lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei cinque figli e di una mamma a novantenne che insieme hanno accompagnato il ferretro all'altare. La commozione in una lettera di una dei figli, Giuseppe, dedicata a quella mamma che c'è sempre stata e che ha insegnato l'amore al posto dell'orgoglio. La vicinanza dell'amministrazione della sindaca Colangelo, segnata dalle parole di perdono della figlia verso il padre, prima omicida e poi suicida, nella camera ardente e dicendo che anche lui andava aiutato. La nostra vicinanza, ha dichiarato la sindaca, deve essere anche un'attenzione alla cultura. Silenzio e violenza non devono restare tra le mura domestiche. Oggi pomeriggio la fiaccolata proprio nel parcheggio dove la donna, Celeste Palmieri, è stata ferita la mattina del 18 ottobre per poi perdere la vita, diventando l'ennesima vittima di femminicidio, un velo nero di tristezza misto a disgrazia che ha devastato una intera famiglia. Noi, la comunità di Sansevero, si stringe, assicura la propria vicinanza, ma assicura anche un impegno concreto. Faremo partire in fretta un'educazione all'affettività nelle scuole, perché anche i figli possano riconoscere i segni di violenza tra genitori, ecco non solo nelle relazioni che li contraddistingueranno nella vita, ma anche nella famiglia di origine. Non è più possibile pensare di derubritare reati gravi. La signora era stata accoltellata nel mese di febbraio. Non è possibile pensare che il marito fosse ancora a piede libero. Ecco, per quale reato era stato condannato? Per un tentato omicidio? Non credo a questo punto. Forse questo era un omicidio che poteva essere evitato.